mercoledì 21 dicembre 2016 questa è la rassegna stampa di fano tv occhio ai giornali che come tutte le mattine dal lunedì al sabato vi tiene compagnia con la lettura dei quotidiani altra dei giornali titoli chiaramente dei giornali che troverete in edicola nella vostra edicola di fiducia il santo di oggi a qualche giorno ormai quattro giorni dal natale oggi è san pietro canisio e dottore della chiesa il vero nome è peter peter canis il cognome fu poi latinizzato in canisius nacque animega oggi in olanda ma allora territorio dell'impero tedesco nel 1521 il sole è sorto le 7 38 e tramonterà le 16 34 minuti vediamo il tempo per oggi anche perché il cielo tende a migliorare ormai il peggio anche se insomma c'è stata soltanto un po di pioggia è passato avremo ancora comunque precipitazioni deboli e con residui fenomeni al mattino più probabili lungo la fascia costiera però in rapido esaurimento anche le temperature che fino a qualche giorno fa erano molto rigide attorno allo zero oggi sono intorno ai 10 gradi quindi saranno senza variazioni di rilievo per quanto riguarda domani giovedì 22 vedete il tempo è ancora è ancora più soleggiato con temperature massime in aumento saranno in diminuzione soltanto le minime per venerdì 23 l'antivigilia siamo ancora con un cielo sereno poco nuvoloso temperature in ulteriore aumento anche per il fine settimana continueranno a persistere condizioni di stabilità allora il Corriere Adriatico questa mattina siamo riusciti a scaricare soltanto la prima pagina quella del Corriere edizione di Pesaro poi quelle locali le altre purtroppo hanno evidentemente non sono state caricate questa mattina alle 7 quindi andiamo con ordine cominciamo dal resto del Carlino la notizia che poi è la stessa che c'è sul Corriere riguarda una scoperta la scoperta di un team di ricercatori di ematologia di Pesaro sulla leucemia malati contaminati uno studio sui pazienti leucemici di Marche Nord fa emergere la presenza nel sangue di nanoparticelle da inquinamento ambientale è una ricerca certamente che allarma perché insomma tutti quanti siamo ogni giorno alle prese con l'aria inquinata quella delle macchine quella del traffico e quindi lo smog poi vedremo l'altra notizia invece sotto la testata nascondeva la sieropositività e picchiava pure la sua amante c'è un processo per un cinquantenne pesarese condannato a rimini per stalking lesioni e minacce poi c'è la fotografia in prima pagina sul resto del Carlino di Rolando Caimmi con i i suoi cani il cacciatore che è stato attaccato da un cinghiale ed è morto di sanguato la tragedia di Pianello Rolando ucciso proprio dal cinghiale oggi ci sarà l'addio il funerale poi finisce un'epoca Pesaro la fiera la fiera di Campanara non c'è più firmato l'affitto con Bricofer i reati in calo e allora partiamo da qui entriamo nella nella pagina che parla del bilancio di fine anno del prefetto Luigi Pizzi resta alto l'allarme per la droga ma la mafia qui dice non non esiste e allora partiamo andiamo a leggere la pagina 4 del resto del Carlino sono due le pagine questa mattina sulla vertice o meglio sul sì sulla sulla conferenza di fine anno in prefettura noi ne leggiamo soltanto una ma che mafia Pesaro so bene dove c'è davvero il prefetto Pizzi parla di un'isola che è quasi felice l'isola felice chiaramente non esiste in nessuna parte d'italia però c'è isola e isola e Pesaro non è di certo tra le più tristi almeno secondo il prefetto Luigi Pizzi che con che non concorda con il quadro delineato dal procuratore Manfredi Palumbo qualche settimana fa ed è tornato a lanciare quando è tornato a lanciare un nuovo allarme dopo quello del 2011 sulle infiltrazioni mafiose nel territorio e anche nelle istituzioni noi ci siamo dice invece il questore il questore di Pesaro la lauriola ha detto che le preoccupazioni sono giuste ma noi siamo pronti noi come forze dell'ordine la pagina di Fano invece è sul cecchi l'istituto agrario il cecchi c'è a Fano ma Carloni si infuria il consigliere regionale chiede l'autonomia del Battisti le iscrizioni sono sufficienti la provincia approva il piano ora resta solo la regione pragmatica l'assessore pragmatico l'assessore mascherina adesso opporsi a questa organizzazione ci farebbe perdere una chance infatti e ora tutti vogliono l'agrario Urbania e Piobbico questi nuovi indirizzi è un indirizzo tecnologico nella zona di Pian del Bruscolo si era detto insomma nei giorni scorsi che sarebbe stato sarebbe andato lì questa questa parte questa succursale del del cecchi in realtà questa nuova programmazione scolastica regionale approvata ieri mattina dal consiglio provinciale prevede diverse novità per l'entroterra a partire proprio dall'istituzione di un indirizzo tecnico tecnologico agraria agroalimentare e agroindustria all'interno dell'istituto della rovere di Urbania sotto invece sempre sulla pagina di fano del resto del carino sulle dichiarazioni di Poletti l'ex sindaco Aguzzi dice ora Massimo Seri si dissoci la polemica sui cervelli in fuga la CGL che è stata esclusa dall'incontro parla di doppio schiaffo si parla di dimenticanza forse di scelta il fatto che il partito democratico di Fano non abbia invitato la CGL all'incontro con il ministro Giuliano Poletti con i rappresentanti del mondo del lavoro e della cooperazione falese che si è svolto l'oledì al pesce azzurro e oggi la CGL non risparmia critiche alle dichiarazioni del ministro sui cervelli in fuga tra l'altro quel filmato Fano TV è l'unica ad avere quel filmato perché era l'unica televisione presente all'incontro quindi ha l'esclusiva di queste dichiarazioni anche ieri stamattina all'alba ci hanno chiamato anche la redazione di Roma di un programma sulla 7 per chiedere l'autorizzazione a mandarlo in onda insomma dichiarazioni forti che certamente avranno ancora uno strascico però poi stasera ve li faremo vedere nel corso del telegiornale il ministro dal suo ufficio ha chiesto di nuovo scusa un filmato di 40-45 secondi nel quale appunto dice mi sono espresso male volevo soltanto evidenziare che chi rimane in Italia non è uno stupido non è che 100.000 che vanno all'estero sono cervelloni e quelli che rimangono qua sono ignoranti tutt'altro però se l'ha detta male, molto male andiamo sull'altra pagina guardate, questo è un furgone un furgone che ha rotto la coppa dell'olio un fruttivendolo è stato multato con 700 euro di sabbia tanto è costato l'intervento del servizio ambiente e questo è il modo in cui le istituzioni danneggiano ulteriormente i piccoli imprenditori già alle prese con la crisi economica ed è scoraggiato Carmine Cerullo questo titolare del negozio di frutta e verdura all'inizio di Via Fanella che appunto ha dovuto pagare 700 euro al servizio ambiente per il sabbione così si dice la sabbia per coprire l'olio allora andiamo adesso invece c'è un'altra pagina interessante sul resto del Carlino dove si parla della riapertura di uno dei locali Bella Napoli, Tiravino ricorderete che quell'uomo ha incendiato di mattina presto di un sabato mattina di qualche settimana fa ebbene Bella Napoli ha riaperto subito Tiravino, Tiravino ha riaperto nonostante avesse avuto gravi danni a causa del fuoco Tiravino, riapertura e sprint però dice nessun grazie al comune l'amarezza del titolare che dice che affonda con le critiche dice si dicevano solidali ma non rispondevano neanche al telefono dunque ha riaperto in tempi record il Tiravino ha neanche un mese dal rogo venerdì scorso in Via Nolfi con un centinaio di clienti che l'hanno gioiosamente affollata tra la cena e un dopo cena di brindisi e di musica però insomma con un retrogusto certamente amaro per il titolare poi attenzione l'Interquartieri domani si apre il quartiere però continua a dire che quella strada è una strada pericolosa si inaugura domani questo nuovo tratto dell'Interquartieri dalla rotatoria di Via Roma a quella di Via Trave costo 4 milioni di euro oltre agli espropri allora andiamo adesso sull'altra pagina vediamo qua l'ultima pagina quella del Corriere Adriatico poi abbiamo solo la pagina principale come dicevo non siamo riusciti non erano disponibili le pagine interne alle 7 di questa mattina allora allarme smog per la leucemia svolta da uno studio pesarese ricerca di ematologia scopre una relazione Visani dice le nanoparticelle sono infatti una concausa poi allerta dopo gli attentati a Berlino in Turchia incubo Isis feste in piazza con le barriere insomma sono riuscite a rovinarci pure le feste di Natale i prefetti potranno annullare raduni e mercatini se i luoghi non sono sicuri poi in breve lo sport con Zullo che dice Alfano ora serve subito una vittoria la situazione per l'Alma Juventus Fano che milita in Lega Pro è un po' delicata perché è in fondo la classifica e adesso servono davvero davvero punti per tentare la salvezza ospedale unico ma pensiero doppio l'articolo qui di spalla di Lorenzo Furlani e poi il cacciatore morto per una emorragia nelle pagine interne e insomma l'autopsia ha stabilito insomma l'emorragia causata dal cinghiale certi giovani via dai piedi tutti contro il ministro l'articolo di Luca Fabri nelle pagine interne del Corriere Adriatico mi fermo qui grazie per aver seguito Occhio ai giornali torneremo naturalmente stasera con il telegiornale alle 20 e 30 per tutti gli altri aggiornamenti vi ricordo che c'è il nostro sito internet occhianotizia.it oppure la nostra applicazione gratuita che trovate negli store di Apple e di Android grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata Grazie a tutti